Appaltati i lavori di risanamento dell'ex discarica di Parapoti, situata sul territorio di Monte Corvino Pugliano. La seduta pubblica della gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della messa in sicurezza si è tenuta nella mattinata di martedì presso la sede del settore ambiente ed urbanistica della provincia. Secondo il cronoprogramma, dopo l'apertura del cantiere, la ditta avrà a disposizione sette mesi per realizzare i lavori, che costeranno in tutto 5 milioni e 600 mila euro. Il progetto prevede la copertura del sito, il recupero ambientale, la regimentazione delle acque e dei canali di raccolta, vasche per il percolato ed impianti per il biogas.